Personalmente preferivo perderla giocandola normalmente che pareggiarla così Penso che tanti saranno d'accordo con me in questo senso perché non è proprio il massimo giocare così le partite Uno potrebbe dire ma era meglio perché c'era la primavera Non è un discorso di possibilità, è proprio un discorso di regolarità di un campionato Che a me piacerebbe che fosse giocato sempre al meglio da tutti Per cui è un punto guadagnato per certi versi, due punti persi per altri Non mi è piaciuto niente questa partita Perché da una parte non fai complimenti all'Atalanta perché da Roma ha fatto una partita l'unica possibile Oggettivamente l'unica possibile di rimessa continua Ma anzi neanche, neanche di rimessa, proprio di difesa oltre alza perché non potevano fare altro Ma parliamoci chiaro E dall'altra parte pur facendo i complimenti a loro Perché uno deve essere sportivo in questi casi Non puoi dire ah che dovevano fa? Andando a perdere apposta Hanno fatto quello che dovevano fa Dall'altra però te fa rabbia perché su quelle partite psicologicamente trappoloni Perché pure lì se da una parte uno non può fare inutile retorica da una parte Prendendosela con l'Atalanta perché chissà che avrebbe dovuto fare Dall'altra però non si può neanche banalizzare il tipo di partita che vai a fare Contro una squadra che si presenta in quel modo Con una pressione folle del devo vince per forza Ben sapendo che non sarà semplice Perché un conto è una partita contro una primavera che gioca per fare la sua partita Un conto è una primavera Panchinari e qualche primavera Che giocano per salvare i punti È diverso ragazzi, è diverso Per cui una partita veramente brutta nella sua composizione Da ogni prospettiva dove la guardi la guardi è una partita terrificante Concettualmente terrificante Però dopo aver fatto tutta questa serie di doverose premesse secondo me Per poterla valutare nel suo insieme in maniera un po' più consapevole e chiara Andava gestita diversamente da noi L'occasione ce l'avevamo noi Al netto di riflessioni che ripeto secondo me sono estremamente utili per comprendere quello che è successo È una partita imperdonabile So due punti persi generalmente Perché tu una partita così la devi vincere Non so come ma la devi vincere Cioè stasera per esempio Proprio alla luce di quel tipo di partita Io avrei messo Lazzari dal primo minuto Io Però chiaramente io Io non so nessuno Non ho nessun tipo di conoscenza tattica Parificabile a quella che può averci un allenatore professionista E per cui sono riflessioni da tifoso che guarda la partita Ok Però mi sarebbe piaciuta una partita un po' più offensiva E stasera paradossalmente ti è venuto fuori tutto quello che è il problema della Lazio di questo periodo Una squadra che ha dei giocatori palesemente fuori forma Palesemente inadatti allo schema E che non puoi sostituire perché non ne hai altri Allora io adesso dirò una cosa forte Ma preferisco un primavera avvelenato a un giocatore affermato che non riesce a esprimersi Perché nel calcio e nello sport conta più la motivazione spesso La voglia Il desiderio La fame E noi abbiamo dei giocatori che palesemente non ce l'hanno queste caratteristiche in questo momento Sono giocatori affermati ma non riescono a esprimersi Cioè stasera Felipe Anderson era completamente fuori fuoco Completamente Poco convinto Arrendevole Poco determinato Gli mancava la cattiveria Completamente Lui già ne ha poca di suo Ma gli mancava completamente Luis Alberto uguale Per carità Le dichiarazioni per partita fanno piacere Me ne vado solo se me calciano eccetera eccetera Però poi entra in campo con una mentalità diversa Lui è uno di quelli che se lamenta sempre che gioca Con i fatti poi E stasera ha fatto una partita in cui non ha fatto la differenza Quante settimane so che vi dico Non fa la differenza Non spicca mai Cioè concretamente quello che ha fatto Luis Alberto Sater Lo posso fare anch'io Lo posso Ma concretamente Sono capaci di farlo anch'io Mi metti un mese alle rambe Per riprendere la forma fisica Lo faccio anch'io Giocate semplici Sbogliate Una pigrezza Nessuna Cioè Nessun tentativo di fare la differenza Nessun tentativo di saltare l'uomo Sempre passaggi in orizzontale Mai Mai una verticalizzazione Non è più lui Allora Se Luis Alberto non gioca Chi c'è? C'è Basic Basic non è un giocatore che può fare la pensata offensiva Si è visto poi quando è entrato Non ha le caratteristiche E Basic è arrivato per fare un altro tipo di gioco Che non si può fare Perché manca quella offensiva Di mezzala Tutta una serie di problemi Che si incassano gli uni con gli altri Che portano a Lazio a essere una macchina Che si ingolfa di continuo Perché poi ti ritrovi con la Coppa Italia Che ti ha fatto giocare 120 minuti Per cui manca anche Quell'esplosività muscolare Che invece sarebbe servita come il pane stasera E ti ritrovi Appare già una partita Che dovevi vincere 4-0 Al netto dell'ottima prestazione dell'Atalanta E della grande voglia di tutti quelli che hanno Partecipato da parte loro Primavera compresi È mancata la cattiveria Io non vedo cattiveria Io non vedo cattiveria Poi sì, il palo Si entrava al gol Sono le solite cose Non si può ridurre una partita così al palo Perché per carità Tre punti mi ripiavo con gioia Mi portavo via pure che era il gol sul palo Cioè, quello che hai preso il palo Fosse entrato Va benissimo Però Resta comunque il fatto Che è una partita da giocare diversamente E In questo senso avrebbe aiutato A avere un'altra punta Da poter schierare Non una punta di ruolo Che sta lì a far numero Nelle registrazioni Io voglio vedere in questa squadra Uno che possa far coppia con Immobile Voglio vedere in questa squadra Uno che possa sostituire Immobile Se Immobile è stanco Mi sono rotto le palle Di vedere sempre le stesse facce Mi sono rotto le scatole Di vedere sempre Morici lì Se sa bene Che cosa stia facendo lì Ma non ce l'ho con lui Non ce l'ho con lui Per carità di Dio Però è fattuale Che cosa Cioè lui è lì perché Perché voglio dire C'è posto C'è 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 Ponna chiunque lì Allora C'è Ponna chiunque In questo momento C'è Ponna chiunque Ma io quello che mi dico È possibile che in primavera Non ci sia uno Più pronto De Morici In questo momento Non c'è Uno svincolato In giro per il mondo Non c'è Più pronto De Morici Non c'è Non esiste Esisterà Non si trova È un problema Torniamo sempre Torniamo sempre lì Torniamo sempre lì Manca La programmazione Non si può di Aspetteremo Le occasioni Famo Vedemo Adesso aspettiamo Stata settimana Vediamo che succede Ma voglio dire È finito il mese Si è mosso nulla Nulla In una mesata In cui si doveva muovere Tutto Quindi Le solite storie La musica Difficilmente Cambierà Lì ci mette pure Padre Pio Un panchino Cambia poco Finché Finché la programmazione È quella Finché la società È quella Cambia poco Ci si deve mettere Un po' così Stasera sono un po' Un po' rassegnato Dico la verità Ma non Ma non è per la partita Sono giorni Che sono un po' rassegnato Parlando di Lazio Perché ti rendi conto Che tutto quello Che era Un apparente Progetto Sta in piena Contrazione In questo momento Non riesce a No Quando è così È brutto Quando è così È brutto Comunque Testa la Fiorentina Quanto è complicato Quest'anno Madre santa Quanto è complicato Però va bene così Però adesso va bene Se sapeva che sarebbe stata Una stagione Di lacrime e sangue Ce la becchiamo tutta Ma ciò non toglie Comunque la squadra si tifa La squadra si sostiene La squadra Non si abbandona mai In nessun momento In nessun modo Guai Guai La sera mi dispiace Solamente tantissimo Per Giovanni Che era tornato Allo Stato Dopo tanto tempo E non si è potuto godere Quella vittoria Che avrebbe meritato Qua sono veramente Qua sono veramente Molto molto di parte Perché Volendogli bene Avrei voluto Al di là dell'amore Che è la Lazio Avrei tanto voluto Vederlo gioire Alla fine della partita Però vabbè Ragazzi Io a questo punto Vi saluto Sempre a forza Lazio E noi ragioniamo a breve Grazie a tutti